Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di narrativa oggi parleremo del petrolio gratuito per autori siete degli autori italiani che volete scrivere dei racconti in un libro fantasy horror oppure un fantasy horror miscolato nel love story per giovani ecco, allora vi conviene andare a scaricare un po' di pdf gratuiti della nota rivista World Tales dentro questa bella rivista che ha inventato il genere World Fiction potete trovare un giacimento di idee fantasy e horror da valorizzare in un retelling omaggiando con una citazione nella vostra opera futura questi primi e grandi autori di fantasy horror che però oggi sono dimenticati dal pubblico ma le cui opere sono in libero download il link lo trovate in descrizione di questo file di Youtube Siete degli autori italiani che volete scrivere dei racconti o di un libro fantasy? ecco, allora vi conviene andare a scaricare un po' di pdf gratuiti di riviste fantasy il link di un giacimento gratuito di idee da valorizzare in un retelling omaggiando con una vostra citazione nella vostra futura opera questi primi e grandi autori di riviste fantasy ormai dimenticati dal pubblico ma le cui opere sono in libero download ecco, il link è gratuito lo trovate in descrizione di questo file di Youtube 3. Siete degli autori italiani che volete scrivere dei racconti o di un libro western story o detective story o hard-boiled action stories mystery stories ecco, allora vi conviene andare a scaricare un po' di pdf gratuiti di riviste western di riviste detective stories di riviste hard-boiled il link di un immenso giacimento gratuito di idee da valorizzare in un retelling omaggiando con una vostra citazione nella vostra futura opera questi primi e grandi autori di riviste western, detective stories hard-boiled action stories ecco autori ormai dimenticati dal pubblico moderno ma le cui opere di questi autori sono in libero download il link gratuito lo trovate in descrizione di questo file di Youtube siete degli autori italiani che state cercando delle opere di autori specifici in free download da leggere per elaborare spunti creativi? ecco, allora sbirciate nell'elenco ragionato per nomi di autori che trovate in descrizione le cui opere sono in libero download gratuito attenzione gente tutti questi links sono in inglese quindi è necessario avere skill linguistici adeguati per poter fruire gratuitamente idee per, diciamo, autori italiani valorizzando però ed omaggiando al meglio questo immenso giacimento di petrolio gratuito per autori ciao alla prossima